Si chiama Jeffrey Reyes, è un ex militare dello stato di New Jersey in Stati Vita America e avrebbe chiesto a una donna con cui si frequentava attraverso la chat di mostrare addirittura le foto di sua figlia per capire se effettivamente la eccitasse a livello intimo, a livello sessuale in particolare l'uomo a questa donna gli avrebbe detto fammi vedere le foto di tua figlia nuda scoperta quindi questa richiesta è stata fatta dall'uomo in questione che 47 anni di età non si è vergognato di farla la donna che per tutta risposta ha deciso effettivamente di inviare le foto della bimba di soli 5 anni di età l'uomo è stato però incastrato da uno scambio di mail e verificatoci con la donna in questione in cui le chiedeva abiettamente di mostrare le foto della figlia dei 5 anni nuda per capire se la attraeva a livello sessuale la mamma della piccola non ci ha pensato due volte e effettivamente ha inviato diverso materiale ottenendo come risposta degli espliciti apprezzamenti da parte dell'uomo che ci sarebbero stati insomma quello che fa paura in tutta questa storia oltre che l'uomo in questione che potremmo definirlo come un personaggio abbastanza lusco anche il fatto che comunque la stessa mamma va a fare una cosa del genere come si può fare una cosa del genere ai posti di lavandosi intensa grazie a tutti un salutone dal narratore italiano